Il lavoro, questo ricatto perenne del lavoro, io non lo sopporto più questo ricatto, devi fare qualsiasi lavoro e allora ecco che c'è la compagnia che dà in opzione il lavoro, non si riesce più a capire responsabilità, i soldi dove vanno, corruzione del 60 miliardi, metà della corruzione europea è in Italia. Noi abbiamo fatto una proposta di legge, ce l'abbiamo qua in parlamentare, tre cose semplici che loro non hanno fatto da vent'anni, potevano fare tre cose, i reati contro il patrimonio non si prescrivano mai, se rubi soldi pubblici hai l'interdizione ai pubblici uffici perenne, non ti puoi più avvicinare a soldi pubblici semplici e la cancente la dà indietro doppia, tre cose, che cazzo ci vuole? E allora che cos'è? Che cosa vuol dire produrre? Cosa produrre? Che cosa produrre? Che cos'è? Gas me l'ho detto prima, gas che gira, noi non abbiamo bisogno di gas, noi siamo qui al momento, dobbiamo sedersi e cominciare a pensare.